A Palermo l'area sembra cambiata, sembra appunto perché se la vittoria contro il Genoa è stata tanto inaspettata quanto preziosa, adesso occorre riconfermarsi e dimostrare che la salvezza può e deve rappresentare l'obiettivo minimo della formazione rosa nero. Il prossimo ostacolo si chiama Pescara, rivale diretta alla salvezza e avversario sulla carta, ottimo per poter chiudere riparando i danni questo 2016. Il match in programma domani alle 20.45, lo stadio Renzo Barbera è fin troppo importante e il margine di errore è minimo, come dichiarato oggi in conferenza stampa dall'allenatore rosa nero Eugenio Corini. Fondamentale pensare a noi stessi, sarà difficile, ma dobbiamo dimostrare il coraggio di Genova e con questa voglia potremo fare bene. Questo è il diktat del tecnico bresciano, che dopo il successo, maturato al Ferrari, vuole puntare a chiudere l'anno con una doppia vittoria, che farebbe tornare il sereno allo spogliatoio e alla città. Confermatissimo dunque Nestorovski in attacco e il duo Yaya-Lokwaison in mezzo al campo, pianamente recuperato anche Gonzales, che guiderà una difesa, detta di Corini, fin troppo fragile e che sta lavorando per migliorare. I punti del Palermo dopo 17 giornate sono appena 9, ma il tempo e il calendario sono dalla parte dei siciliani. Vincere contro il Pescara vorrebbe dire avvicinarsi all'Empoli, battuta ieri a Bergamo, e gettare le condizioni perfette per l'altro testa a testa a salvezza di gennaio, quando proprio in casa dei toscani ci si andrà a giocare una fetta di Serie A. Corini ci crede, i tifosi pure, il verdetto del campo dirà se per il Palermo sarà un Natale tranquillo o meno.